Andiamo? Bene. Allora sì, facciamo un workshop su FreeCAD, quindi partiamo da zero e facciamo la dimostrazione dei concetti di base per la modellazione solida parametrica appunto con FreeCAD, che è un programma open source dedicato appunto a coprire vari ambiti della progettazione, ma tutti quanti accomunati dalla caratteristica che la modellazione è prettamente solida, per quanto possa anche lavorare su superfici, ed è parametrica. Gli ambiti con cui FreeCAD può lavorare invece sono molteplici perché si va dalla progettazione meccanica a quella civile, all'ambito maker, al modulo CAD, a tanti task specifici possibili con la installazione di default e tanti altri task invece accessibili tramite l'aggiunta di plugin o di macro disponibili dalla comunità di FreeCAD. Macro e plugin sono disponibili attraverso il menu, la tendina strumenti e lo strumento specifico della DOM manager, che il messaggino vi dice che non sono parti ufficiali, facendo parte del codice ufficiale di FreeCAD, ma comunque sono componenti che fanno parte di una comunità comunque partecipe dello sviluppo. Quindi sono plugin comunque abbastanza collaudati, recensiti, abbastanza scaffati diciamo. La differenza tra Workbench e Macro sono una specie di boff di quello che potrebbe essere un plugin, si lanciano tramite il gestore di macro, mentre Workbench è un plugin, è un'aggiunta un po' più evoluta, che nella maggior parte dei casi va ad aggiungere proprio una voce al selettore di ambienti. Quindi è un lavoro un po' meglio costruito, un po' meglio integrato all'interno di FreeCAD. All'interno del wiki comunque ufficiale, tutti i plugin e le macro sono recensiti e documentati, quindi è possibile cercarli e vedere come funzionano attraverso il wiki ufficiale. Allora, veniamo a noi. A livello di base, il dove partire è abbastanza comune a tutte le piattaforme di modellazione solida parametrica. Quindi di solito io parto sempre dai due concetti base. Quelli che appunto, a parte piccola differenza nei nomi, si trovano in tutti i programmi. E sono i due concetti di creazione di un solido che si chiamano estrusione. Ci sono due tipi, diciamo, di quelli di base. L'estrusione lineare e l'estrusione di rivoluzione. Sono concetti che valgono per la creazione del materiale, ma valgono anche per la sottrazione, funzionano allo stesso modo. Creazione o sottrazione. I concetti funzionano così. Si compongono entrambi di due passaggi. La creazione di uno schizzo, di una sagoma, in questo caso ve l'ho evidenziata in verde. La base di questo prisma, quindi il rettangolo, banalmente, potrebbe essere qualsiasi forma anche disegnata a mano, è il primo passaggio. E viene utilizzato con uno strumento che si chiama, nel caso di FreeCAD, sketcher. Cambia di poco nel caso di altri strumenti proprietari. Tipo Soliduo se lo chiama schizzo. Siamo lì. Siamo sempre in sinonimi o in simili. Schizzo. Dopodiché il secondo passaggio è proprio a partire dallo schizzo la creazione di un solido. L'estrusione lineare funziona in maniera molto semplice. A partire dalla sagoma viene creato un certo spessore. Si esce come dalla sagoma, si va in una direzione di estrusione lineare, per quello si dice. Quindi l'altezza è regolare, se noi tagliamo a fettine è sempre lo stesso, è la stessa sagoma del rettangolo in questo caso. Quindi è lineare verso una unica direzione. La direzione può essere verso l'alto, verso il basso, può essere simmetrica, ma comunque è sempre un'unica direzione. A partire dalla sagoma. Mentre nel caso dell'estrusione di rivoluzione, la sagoma è sempre il punto di partenza. Quindi è, nel caso di FreeCAD, ma anche di tanti altri software, metà della sezione. Come se prendessimo il nostro oggetto. Nel caso della rivoluzione sono sempre oggetti circolari, conici, cilindrici, tronchi di cono comunque. Il cui schizzo di partenza praticamente è la sezione, quindi come immaginiamo di tagliarlo a metà, metà di quel profilo ricavato dal tagliare a metà l'oggetto, diventa, è sempre una sagoma chiusa, quello importante sempre ricordare, deve essere una sagoma chiusa, ma è praticamente il profilo dell'oggetto. Quindi, una volta che abbiamo creato questo profilo, che cosa succede? L'estrusione di rivoluzione crea materiale andando a ruotare attorno all'asse di rivoluzione. L'asse di rivoluzione, nel caso di un oggetto circolare, conico, eccetera, eccetera, è praticamente il centro di tutti i cerchi che compongono. Se andassimo orizzontalmente ad affettare, in questo caso, il pedone, otterremo una serie di cerchi. Congiungendo i centri di questi cerchi, otteniamo praticamente l'asse di rivoluzione. Ecco, allora l'operazione di distrusione di rivoluzione non fa altro che far ruotare il profilo che abbiamo disegnato attorno a quest'asse e man mano che ruotiamo, poggiamo giù nel materiale. Facendo un angolo completo, otteniamo l'oggetto completo. Possiamo anche fare un angolo minore di distrusione 60 e ottenere una porzione. Questi due concetti sono presenti trasversalmente in tutti i casi di questo tipo. Cambiano leggermente magari qualche opzione, ma il principio non cambia. Come vi dicevo, il principio, questi due principi, valgono sia per la creazione che per la sottrazione. Nel caso, e poi valgono ovviamente, per creare figli del primo passaggio. Quindi quando io ho creato un prisma, la creazione dello schizzo potrà venire ad esempio su una delle facce che ho creato. E quindi a quel punto, creando uno schizzo su una delle facce, potrò dire aggiungo un altro prisma sopra quell'altro, oppure uso quello schizzo per tagliare, per fare una cavità, per fare un foro. Andiamo a vederlo nella pratica. Allora, l'ambiente, come dicevo un po' prima, anticipando il talk, dove è possibile concretizzare, utilizzare queste funzionalità, e l'ambiente che è il più idoneo anche per chi muove i primi passi all'interno di FreeCAD, è quello dell'ambiente PartDesign. PartDesign ha un workflow, cioè un modo di lavorare, che sta diventando un po' unico all'interno della piattaforma, cioè sta evolvendo, sta evolvendo per andare a creare una familiarità rispetto ai prodotti commerciali. Quindi una familiarità di tipo professionale. e quindi sta creando anche un modo di comporre, diciamo, i vari passaggi elencati, che vengono poi elencati nell'albero modello di FreeCAD, un po' particolare rispetto agli altri ambienti di FreeCAD. Poi probabilmente col tempo si andanno un po' a omogenizzarsi con gli altri ambienti, però in questo momento è un workflow leggermente diverso dagli altri. Il documento comunque, o i passaggi creati con PartDesign, sono comunque comunicanti con il resto di FreeCAD. Però il workflow è un po' particolare. La particolarità di questo, appunto, flusso di lavoro è quella di utilizzare dei contenitori chiamati corpi o body in inglese. Quindi, quando si va a partire con... apriamo un documento vuoto, così vediamo proprio dall'inizio. Quando si va a partire con PartDesign o il documento vuoto, già la vista combinata che ha le due linguette, albero modello e azioni, dove c'è un po' di dialogo, di interazione con i comandi suggeriti o quelli magari possibili in quel determinato momento, c'è subito il suggerimento di creare uno di questi contenitori che si chiama, appunto, corpo o body. Il contenitore è una sorta di raggruppamento di più funzioni. Lo scopo di reaggrupparle è quello di creare un componente di quel pezzo lì. Se il pezzo è monolitico, cioè fatto da un unico elemento, il body sarà unico. Se il pezzo è fatto da più elementi che potrebbero risultare incollati, saldati, brasati, comunque più pezzi all'inizio che poi vengono uniti in qualche processo di lavorazione, allora sarà conveniente creare più di un body, più di un corpo all'interno della stessa parte. Il resto di FreeCAD utilizza un contenitore simile che però si chiama proprio parte. Quindi diciamo che se uno volesse strutturare il proprio modello nella maniera più ordinata possibile, i passaggi consigliati sarebbero quello di creare una parte, quindi dire io adesso sto creando una parte, un pezzo finito, non un assieme, non un gruppo. Per assieme, per chi non è familiare con la meccanica, si intende un assiemaggio di pezzi finiti per comporre una macchina, un insieme di oggetti, potrebbe essere il mobile che è assemblato, potrebbe essere una bicicletta, un'automobile, ok? I singoli pezzi finiti come lavorazioni che compongono questi assiemi sono le parti, le parti che poi in realtà possono essere usate anche come sotto assiemi, in realtà c'è molta libertà in FreeCAD. Contate che i nomi di default di contenitori oggetti sono sempre rinominabili, quindi uno può creare una struttura a più livelli come gli piace. Comunque diciamo che se uno volesse essere particolarmente ordinato, creerebbe prima una parte per dire io sto creando una parte adesso, una parte, perché potete creare più parti all'interno del suo documento. Quindi il documento di FreeCAD è un jolly, può essere un assieme, può essere una parte, può essere più cose. Non c'è come in alcuni software commerciali la distinzione di formato file, formato dedicato all'assieme, formato dedicato alla parte o la messa in tavola, è sempre lo stesso documento. Cosa c'è dentro lo decide l'utente progettista. Creata la parte si passa a creare un corpo, quindi vedete che il corpo direttamente viene inserito dentro la parte, ok? A questo punto il body come lo popolo. Inizio a lavorare creando, questi sono solo contenitori, quindi adesso sono ancora in una condizione di non avere niente di creato. La prima parte, come vedevamo nei passaggi elementari che facevo vedere prima, è la creazione dello schizzo. Che forma ha quello che voglio creare? Allora vado a definirlo prima scegliendo il piano di default. Quindi siamo in uno spazio tridimensionale organizzato con un sistema di coordinate cartesiane. Abbiamo nell'intorno dell'origine tre piani creati di default. Quindi noi creiamo una sagoma bidimensionale in uno spazio tridimensionale. Dobbiamo scegliere come se avessimo un foglio, no? Dobbiamo scegliere in che orientamento andiamo a disegnare. Tutto lì, ok? Ce ne sono tre di default ma ovviamente possiamo disegnare dove ci pare. Selezioniamo o graficamente o dall'elenco nella casella di selezione, diamo l'ok ed ecco ci troviamo su questo ambiente che è lo sketcher vero e proprio. Lo sketcher significa schizzo, cioè come se fossimo su un blocco degli appunti, su un foglio bianco e dobbiamo disegnare la nostra sagoma. Questi riferimenti sono riferimenti di assi orizzontale e verticale. Non sono per forza di cose, in questo caso sì XY, ma in realtà dipende dal piano che ho scelto, potrebbero essere XZ, YZ, ok? L'importante è quando disegniamo, specialmente nelle costruzioni meccaniche o comunque di pezzi che magari dobbiamo assemblare, l'importante è, uno, localizzare bene nello spazio tridimensionale la posizione di quello che disegniamo, due, possibilmente dare sempre delle dimensioni precise agli oggetti, specialmente se dobbiamo assemblarli, se non sappiamo quanto sono grandi non sappiamo se possono essere uniti, ok? Allora, in FreeCAD adesso è un po', si è un po' ridimensionata l'ordine, diciamo, la composizione delle toolbar perché la definizione del proiettore è bassa. Abbiamo due toolbar principali in sketcher, uno che è quello composto dall'entità che possiamo disegnare, quindi punti, linee, archi, cerchi, poligoni, rettangoli, eccetera. Un'altra, quindi sono icone prettamente bianche e rosse. Questa toolbar invece, in questo caso si è posizionata qui, di icone esclusivamente rosse, sono i comandi relativi ai vincoli, cioè alle proprietà, ai parametri geometrici che affidiamo alle nostre geometrie. Adesso facendo un esempio capirete meglio di cosa stiamo parlando. Provo a fare un rettangolo, una figura che più semplice non si può. Quando io disegno un rettangolo, il rettangolo che disegno, se provo a tirarlo, è una sorta di elastico, una figura molto plasmabile. Però per quanto io tiri e allunghi, la figura rimane un rettangolo. Perché rimane un rettangolo? Perché, se notate, vicino ai segmenti che compongono il rettangolo, ci sono i simboletti rossi. Questi simboletti rossi richiamano proprio questi vincoli di questa toolbar, cioè sono delle regole che io affido alle varie entità che disegno. Questo segmento rimane orizzontale perché c'è un simboletto di orizzontale vicino che lo obbliga a rimanere tale. Se io lo seleziono e lo elimino, vado a slegare, tolgo la regola dell'orizzontalità per questa linea e quindi se io tiro, la linea può andare in diagonale. Questo vale per tutte le entità. Affido una regola, tolgo una regola, posso andare a giostrare la mia sagoma senza disfarla necessariamente rifacendola da capo, ma agendo sui parametri, in questo caso, costituiti dai vincoli. Cioè non devo buttare via ogni volta la geometria che faccio. Posso modificarla quel tanto che mi serve per ottenere la forma che desidero. Quindi si tratta di risparmiare del tempo. Quindi io se voglio ritornare a dare l'orizzontalità a questo segmento, semplicemente lo seleziono e clicco orizzontale e torno ad averlo vincolato. Ok? Una parte dei vincoli, questa prima parte della toolbar, si riferisce a vincoli geometrici. Quindi trovate la coincidenza, verticalità, orizzontalità, parallelismo e così via. Cioè regole che incidono sulla geometria, sull'orientamento delle entità. La seconda parte invece si riferisce alla dimensione. Quindi quanto è lungo, quanto è quell'angolo, quanto è il raggio e così via. Ok? Io dovrei usare entrambe per definire completamente la mia geometria. FreeCAD, per i più precisi, per i più attenti, ha un solutore che semplicemente è un'interfaccia, è una comunicazione tra il programma e il progettista che mi va a contare i gradi di libertà della geometria che ho creato. Meno l'ho definita, più gradi di libertà ho. Cioè gradi di libertà è quanto riesco a tirarla, spostarla, no? Liberamente. Man mano che io vado a definire, a vincolare l'oggetto, vado a perdere il gradi di libertà e quindi a definire in maniera univoca. Dimensione e posizione. Quindi se io ad esempio adesso prendo questi due vertici e do una coincidenza, punto su punto, vedete che da 4 sono passato a due gradi di libertà. Cosa vuol dire? Che questa parte del rettangolo non la sposto più. Posso cambiare l'altezza e la base, però la posizione ormai è vincolata. Quindi semplicemente in questo caso andrei a dire quanto è larga la base, quindi vado a dire questa misura, vincolarla, vedete un grado di libertà, misure parametriche, quindi posso andare sempre a cambiare in ogni momento con doppio clic. E altezza, ecco qua. Quindi mettiamo ad esempio 20 mm. Quando il lavoro, quando la definizione arriva ad essere completa, la figura da bianca, come colore dell'entità, diventa verde e il solver, il solutore, anch'esso comunica una scritta in verde. Schizzo completamente vincolato. Ok? Fondamentale, questo vale per tutti i software di questo tipo, è non essere ridondanti nei vincoli. Facciamo un esempio. Se io, oltre ad aver dato l'altezza di qua, andassi ad aggiungere un'inutile altra informazione di altezza nell'altro lato, vedete che otterrei un errore. Otterrei un messaggio, lo schizzo contiene dei vincoli ridondanti, ovvero hai dato due volte la stessa informazione. Questo è un errore perché a quel punto la caratteristica di parametricità si scontra con una doppia informazione, quindi il software non sa quale deve seguire. Perché se io ne ho due che dicono la stessa cosa e vado a modificare, dare 30 a destra e tenere 20 dall'altra parte, il software dice, ma sono tutte e due la stessa cosa, se mi metti 31 e 20 all'altra, io dove vado? Allora ti do l'errore. Bisogna dire una volta sola la stessa cosa. Una volta creato, come vedete, la nostra sagona di partenza, possiamo dare il comando che desideriamo per creare il volume. Quindi se andiamo a inseguire il primo principio dell'estruzione lineare, possiamo scegliere il comando di prisma. E quindi vedete a partire, subito ho un'anteprima dinamica di quello che otterrò, a partire dallo schizzo che ho creato, verso l'alto si è creato uno spessore di 10 millimetri, creando un'anteprima di un prisma solido. Il dialogo mi permette di invertire la direzione, rendere la simmetrica al piano di schizzo e ovviamente andare a variare l'entità dello spessore. In ogni momento, ecco qua, uscendo e definendo i parametri del nostro prisma, in ogni momento possiamo andare a tornare indietro e a ripensare i valori o i parametri che abbiamo dato. Quindi io dico, mi sono sbagliato, la sagoma non è quella che volevo, andiamo a cambiarla. Due clic sullo sketch e torniamo dentro all'ambiente di sketch. Quindi se voglio posso dire, togliamo l'orizzontale qui, togliamo questa misura qua, andiamo a allungare qui, diamo altre misure, facciamo un trapezio. Parametricamente l'oggetto si adegua subito. Stessa cosa, se ripensiamo il valore della profondità, due clic su pad e torniamo nel punto di prima in cui possiamo andare a ripensare lo spessore in ogni momento. Ok? L'ambiente di pad design funziona così. Molto intuitivamente due clic su quello che ho fatto prima. Non tutto l'ambiente di FreeCAD si è aggiornato per permettervi questo flusso flusso di lavoro, cioè due clic sul passaggio e subito torno al dialogo. Quindi nel caso in cui si voglia andare a conoscere gli altri ambienti, non sempre, non tutti si sono subito adeguati a questo tipo di comunicazione, a questo tipo di scambio. Però pian pianino la piattaforma si allineerà, insomma, su questo tipo di interfaccia. Questo tipo di interfaccia comunque è quello che trovate anche in tanti software commerciali, quindi è assolutamente valido quello che imparate qui anche in altri ambiti. Quello che vi dicevo prima è quello, cioè i concetti di estrusione valgono in creazione o in sottrazione. Quindi se io volessi creare una cavità a questo punto, ad esempio in questa faccia, non faccio altro che selezionare... Prima non avevo niente nello spazio, quindi dovevo selezionare un piano di partenza o creare ne uno. Adesso che ho delle facce, posso disegnare sulle facce e dire io qui adesso voglio disegnare qualcosa che diventerà una cavità. Allora benissimo, seleziono dove voglio andare a disegnare, schizzo, vado in piano, decido che cosa voglio fare, facciamo ad esempio un foro per forare questo oggetto, seleziono, diamo un raggio e andiamo a dargli la distanza dall'origine. Ok? Adesso mettiamo quote magari un po' casuali, ma insomma... E come notate qui è organizzata un po' anche cromaticamente la toolbar. Icone gialle, creazione materiale, icone blu-rosse, sottrazione materiale. Andiamo a creare una cavità da questo schizzo circolare, vedete. Posso scegliere se fare una cavità cieca, quindi che non è passante e si ferma a una certa profondità, oppure dalle opzioni attraversare tutto, quindi ad esempio fare fuori per fuori un foro. Ok? Ecco qua. Quello che sto creando, vedete, è una serie di passaggi che creano quelle che si chiamano in questo ambiente dipendenze. Allora se io vado ad aiutarmi con strumenti grafico delle dipendenze, FreeCAD mi fa uno schema per farmi capire chi è legato a cosa e quindi mi fa capire, questo è valido soprattutto quando faccio pezzi complessi. Chi è il papà di cosa? Quindi voi immaginate di fare un castello di carte, no? Le carte che stanno sotto, se le tolgo casca tutto quello che c'è sopra, no? I primi passaggi diventano il papà di quelli successivi, creano una dipendenza diretta. Nel caso del mio oggetto, ad esempio, siccome ho creato la cavità con uno schizzo sopra questa faccia, se questa faccia la porto su o giù, questa roba qua segue. Quindi se io cambio l'altezza del pad, il risultato che ottengo è quello che comunque la cavità e lo schizzo che ho fatto segue la posizione. Se io spengo un attimo questo oggetto e faccio vedere dove quello che ho disegnato poi si sposta, vedete che rimane sempre incollato alla faccia dove l'ho disegnato, ok? Questo comportamento è tale che deriva dal fatto che ho creato delle dipendenze. Quindi il grafico delle dipendenze è utile a capire, non in questo caso che i passaggi sono banali e sono semplici, ma quando create qualcosa di complesso potete perdere un po' un attimo l'orientamento su chi era il papà e se sposto una cosa cosa succede a quelle che sono costruite sopra, ok? Quindi qua vediamo le frecce puntano, partono sempre dai figli, quindi vedete ultimo pocket che è figlio dello sketch, che è figlio del pad, che è figlio dello sketch e quindi il pocket è figlio del pad, vi fa vedere questi legami qua, no? Ok? Quindi potete capire cosa succede se togliamo questo, cade tutto questa roba qua, o comunque va come minimo ridefinita. Fin qui è tutto chiaro? Ok, in tutto questo vedete questo piccolo gestore delle viste e degli orientamenti, è carino e simpatico, arriva con la 018, potete o cliccare sul cubetto, frecce, a scatti vedete, e potete ottenere degli orientamenti ordinati graficamente andando a cliccare, è abbastanza comodo, altrimenti ci sono le classiche viste preimpostate, ma quelle sono le classiche planarie, la sonometria isometrica e le classiche viste fronte, top, bottom eccetera eccetera. Qui invece potete giocare un po' su viste anche customizzate e qui nel cubettino potete invece scegliere il riempimento della scena oppure la sonometria in prospettiva oppure ortografica. La prospettiva è questa, cioè è scelta di solito architetti, geometri, quelli che vogliono vedere la scena in prospettiva, i meccanici invece di solito lo vedono in maniera ortografica, perché sono interessati puramente alla geometria e alle sue dimensioni. Allora questa era l'estrusione lineare in creazione e in sottrazione. L'estrusione in rivoluzione invece, facciamo come pezzo nuovo, anzi facciamo un apri perché io comunque qualche documento ce l'ho già pronto, così lavoro un po' di meno, vi faccio vedere qualcosa di più, piccoli makers, eccolo qua. Ecco se io parto già, questo era il pedone che vi ho fatto vedere nell'esempio nello screenshot, il mio sketch è questo, non è semplice perché il pedone comunque è un pedone standard degli scacchi, quindi l'ho fatto a norma degli scacchi, e quindi ha una sagoma un po' particolare. È più semplice se volete disegnare una lattina, una bottiglia, un vaso. Ok? Comunque vedete, la sagoma è metà praticamente del profilo del pedone, la sagoma chiusa però, vedete, completa verde, quotata perfettamente. A partire da questa sagoma, cosa succede? Sketch è questo qui, vado, icone gialle, creazione di materiale, questo è il prisma, che posso sempre ottenerlo, vedete, però ovviamente non è quello che voglio in questo caso. Oppure rivoluzione. Rivoluzione, vedete, abbiamo anche temporaneamente uno schema degli assi di default presenti, in questo caso, nel corpo. Vedete che abbiamo degli elementi di riferimento di default, che fanno capo all'origine del sistema di coordinate del corpo, e posso, di default, mi sceglie l'asse verticale, ma ovviamente posso scegliere l'asse orizzontale, o un'asse custom, selezionabile tra quelli disponibili, oppure selezionabile proprio come un riferimento. Ok? In questo caso voglio il... siamo sui tempi? Ok. Ok. In questo caso mi va bene l'asse verticale, l'angolo di default è 360, cioè vi fa pezzo completo. Se voglio andare a fare invece una porzione dell'oggetto, no? Tipo una torta senza una fetta, o una fetta di torta, insomma, posso andare a dare un angolo inferiore. Anche qui c'è la direzione, in questo caso, da poter selezionare. Dandolo ok, ecco qua, abbiamo l'oggetto fatto. Allo stesso modo, qui ho creato materiale, anche qui ho eventualmente la funzione per, si chiama gola o scanalatura, per sottrarre in maniera, comunque, di rivoluzione, seguendo il principio di rivoluzione, per sottrarre il materiale al mio oggetto. Anche in questo caso potrei andare, penso che posso anche andare a cliccare, ad esempio, questa faccia qua, creare. Faccio una roba veloce, è giusto per farvi capire, senza andare a definire troppo. Ma a partire da questo, posso andare, vedete? Adesso dovrei cambiare, mi pare che abbia usato un altro asse come schizzo. Ah no, scusate, ho usato quello di rivoluzione. Pardon. Ah no, no, è giusto, è giusto. E devo andare a definire l'asse verticale come... Z, vediamo. Eccolo qua. Perché in questo caso dovete stare attenti a cosa fate nello schizzo, no? Questi sono gli assi di default che fanno riferimento assieme alle coordinate di base. Questo è solo l'orientamento, ma per farvi capire. Quindi è quello puro, generale. Mentre qui, all'interno dello schizzo, va a vedere qual è il riferimento che potrebbe diventare l'asse di rivoluzione. Quindi potrebbe essere relativo questo riferimento. Ok? Comunque vedete che io, a partire dal rettangolino che ho fatto, adesso ho girato intorno a questo asse centrale e ho portato via il materiale. Ok? E tu ti serve ancora, Giovanni? No, ho fatto, ho fatto. Finito. Se c'è qualche domanda veloce, se no, sapete, siete tutti... Allora, c'è una libreria selezionabile dagli add-on che è propria per la creazione di viti o comunque elementi, si chiama Fasteners, che va a richiamare librerie degli standard di niso, eccetera, eccetera, per le viti. Altrimenti è facile utilizzare, ma in questo caso ci si sposta su Path, in crea primitive geometriche parametriche, è possibile andare a trovare e... dov'è, dov'è, dov'è? Elica. Elica diventa a questo punto una primitiva, a cui dobbiamo associare una sezione, no? Esatto, esatto. Comunque è tutto anche lì, basta creare un tracciato, poi in realtà possiamo creare qualsiasi creazione di geometria. Posso estrudere, per esempio, usare una costruzione circolare, da estrudere, per esempio, una cosa invece rettangolare, per dire... Sì, 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 sì... ...questo pedone che tu hai usato... Sì, no, io adesso ho fatto delle creazioni abbastanza lineari, abbastanza semplici. Quindi, sia in Path che in Path Design, abbiamo le funzioni di Sweep, si chiamano, e Loft. Sweep cosa fa? Possiamo estrudere o sottrarre una sezione che segue un tracciato, quindi potrebbe essere un'elica o un tracciato curvo o scattoso, insomma, in creazione o in sottrazione. E possiamo anche unire, ad essere sottracciato, sezioni diverse. Mentre il Loft fa semplicemente una sorta di calcolo, ti passa da una sezione all'altra. Quindi tu puoi partire con un cerchio, finire su un quadrato e uscire in un esagono. Se dovete fare dei collettori, ad esempio, oppure qualche cosa di artistico, magari, no? Sono funzioni che fanno delle transizioni tra sezioni oppure seguendo dei percorsi. Tutta questa roba qua, comunque, potete esplorarla attraverso il wiki, perché ogni comando è ben documentato e ha gli esempi per poter utilizzare, ok? Per il resto, ovviamente, se siete interessati a questo genere di programmi, ogni martedì ci ritroviamo, o quasi, insomma, il gruppo CAD, per esempio, per utilizzare questi programmi qua e scambiarci esperienze insieme. Buon, pare che ci siamo. Ciao!